Sì, vedi che tu hai preparato il caffè, metti. Allora, abbiamo detto... Se la formula è sbagliata, se l'età è sbagliata... Una F sola? AFF, 07, 4,2, diametro 572, 573... Posso avvicinarle? E' l'incasso! E' l'incasso! Che grazie! Quattro richiami elettroacustici, dei picchetti idoni per fissare i doni, per estendere le reti, dove poi verranno fissate le reti per la cattura degli animati. Grazie! Grazie!